Perchè non vai a letto, e tu non l'hai ancora? Penso che hai fatto bene a trattenerlo, ti mai forse ho fatto male, basteranno due uomini, non c'è molto lavoro. Il tinka potresti licenziare, beve sempre, sobriata per calmare i suoi dolori, ha per voi una bagassa, beve per non ucciderla, che hai? Sono tutte queste storie che a me non interessano. Perchè? Perchè? Perchè non mami più? Perchè? 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 a mia quando tu m'amavi e ardentemente mi cercavi e mi baciavi quando tu m'amavi rasta vicino a me la notte bella che poi si invecchia non son più la stessa tu pure sei cambiato di fidi ma che credi poi lo so nemmeno io buonanotte pichele casco dal sonno e allora va pure ti raggiungo sgualdrina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti